Il Paradiso, Umberto potrebbe inaugurare l'atelier in concomitanza con la sfilata. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su Raiplay. La rivalità tra il Paradiso delle Signore e la nuova boutique di moda che ha sede a Palazzo Andreani entrerà presumibilmente nel vivo a breve. Ma già la prossima nascita del nuovo atelier di Umberto farà sì che Floro si licenzi e vada a lavorare come stilista per Umberto. Da un lato troveremo Vittorio e la nuova alleata Adelaide, la quale si schiererà dalla parte del direttore dopo aver scoperto gli intrighi di Tancredi e Matilde. E dall'altro lato ci saranno Guarnieri, Ravasi e probabilmente anche Tancredi e Torrebruna. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Umberto potrebbe inaugurare il suo atelier di moda in concomitanza con la sfilata organizzata al Paradiso. Così facendo, Guarnieri proverebbe a rovinare la sfilata del Paradiso dopo aver soffiato al grande magazzino la stilista Flor. Da quando leggiava la possibilità che Umberto, assieme ai nuovi alleati Tancredi e Ferdinando, stesse ristrutturando Palazzo Andreani per creare un nuovo atelier di moda per neutralizzare sia il Paradiso delle Signore che Vittorio. Sembrava oltremodo plausibile che Flora sarebbe stata la stilista della fresca boutique. Nel mentre, però, il rapporto tra la figlia di Achille e il commendatore Guarnieri si è inasprito non poco per diversi motivi, su tutti l'indecisione del banchiere di convolare a nozze con la stilista. Ma anche il fastidio misto a gelosia che Umberto prova quando vede l'ex Adelaide flirtare con Marcello. Le ruggini tra i due, almeno apparentemente, sembrerebbero appianarsi considerevolmente nelle prossime puntate dello sceneggiato di Rai 1. Con Flora che deciderà di lasciare la famiglia del Paradiso per seguire la nuova avventura professionale del fidanzato dove vestirà i panni della stilista. A permanere indissolubilmente sembrerebbero i desideri di rivalsa di Umberto nei confronti del Paradiso delle Signore. Dell'ex amante Adelaide e dell'ex socio Vittorio. A tal proposito, conscio della nuova sfilata di moda organizzata da Maria al Paradiso. Il guarnieri senior potrebbe provare a rovinare l'evento del grande magazzino milanese decidendo di inaugurare il suo atelier lo stesso giorno del defile. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, il padre di Marta metterebbe in atto, a seguito del licenziamento di Flora. Il secondo colpo basso ai danni del Paradiso delle Signore. Il secondo colpo basso ai danni del Paradiso delle Signore. Il secondo colpo basso ai danni del Paradiso delle Signore.